Riscattare la sconfitta di Catania. E' questo l'obiettivo dell'Avellino contro la Virtus Francavilla. Mister Braia per il match di domenica dovrà rinunciare a Silvestri squalificato ed Enrico Infortunato che sta continuando a lavorare per tornare a disposizione se ci riuscirà per il big match contro il Bari. Così come di sicuro non ci sarà l'attaccante Bernardotto. Prima convocazione per la Ezza. Il difensore non è ancora del tutto recuperato ma si accomoderà in panchina dopo il brutto infortunio patito nel match amichevole contro la Cavese. Un modo per far assaporare al calciatore nuovamente il gruppo. Per Carriere De Francesco si aspetta il risponso dello staff medico. Anche se il loro ritorno è molto più plausibile per il match contro la Ternana. Classico 3-5-2 per i bianco-verdi. Importa come sempre ci sarà Forte in difesa al posto dello squalificato Silvestri. Ci sarà Rocchi, Ballottaggio, Micelido, Sene e Mezzo con Ilianes per l'ultima maglia. In mediana sugli esterni Ciancio e Tito. Mentre al centro Adamerizzo in grande spolvero nel match di Catania si giocheranno una maglia da titolare al fianco di Aloy e D'Angelo che completeranno la linea. In avanti spazio al tandem Sant'Aniello-Maniero con Fella che inizialmente partirà dalla panchina.